Registrazione video a 1080p da Titan Mettiamo a fuga il nostro solito ramoscello Ora proviamo un pan veloce Come vedete sembra abbastanza fluida la registrazione video Ora andiamo in una zona leggermente più buia Proviamo il nostro solito controsole E ora vediamo il riadattamento delle luci L'adattamento che sembra quindi davvero abbastanza buono Proviamo anche a dirigirsi anche in questo caso in una zona un po' migliore Registrazione video da Titan a 1080p